I proprietari indisciplinati di cani non hanno più scusanti. L'amministrazione comunale di Noceano Inferiore ha creato infatti 20 postazioni per dire basta alla presenza indiscriminata per le strade cittadine di deiezioni canine. Si tratta di contenitori dai quali si potranno prelevare al costo di 20 centesimi buste di plastica e paletta per raccogliere gli escreventi per poi riporli nella parte bassa dello stesso contenitore. Al comune questi contenitori sono costati soltanto 755 euro acquistati da un'azienda di Cremona. Ma la conferenza stampa di presentazione di questa mattina è servita anche per mostrare i nuovi contenitori raccogli telefonini, pile e sauste, piccoli elettrodomestici, in totale 7 che saranno dislocati in luoghi pubblici dal maggiore flusso di persone come il comune, scuole o tribunale. Iniziamo col dire che l'obbligo per i possessori di cani e coloro che li portano a passeggiare è quello di dotarsi di una bussa per la raccolta o della paletta insieme alla bussa per la raccolta. Non tutti lo fanno. Ma comunque è un servizio utile per la città. C'è in tante città civili, anche del centro-nord Italia, ma anche del sud Italia, questo meccanismo con dei distributori, dei materiali, che consentono, mettendo nel nostro caso 20 centesimi dentro, di raccogliere il kit, quindi di prelevare dall'interno del primo comparto del distributore la bustina con la paletta e poi, raccolto la deiezione del cane, la cacca del cane, di buttarla nel cestino che è sottostante allo stesso impianto. Con l'architetto di Sio poi avete pensato, soprattutto le sindaco, nei luoghi più importanti da pubblico sul territorio, sette mini isole ecologiche, ma più che altro punti di raccolta, di telefonini, piccoli elettrodomestici, anche pile esauste. Credo che anche questo sia un momento importante. Sì, questo è un finanziamento regionale che rientra nei misure di finanziamento per le problematiche ambientali ed ecologiche, grazie al quale noi abbiamo acquisito, non solo questo, ovviamente, sette mini isole ecologiche, in realtà sono sette raccoglitori composti con moduli o a tre oppure a due, dove è possibile conferire alcuni tipi particolari di rifiuti, in genere quelli di carattere elettrico-elettrodomestico, piccoli elettrodomestici, telefonini cellulari, vecchi asciugacapelli o pile e batterie, diciamo, esauste dove da buttare. Noi abbiamo già fatto una prima dotazione in queste settimane, lo ricorderete, di 20 raccoglitori di pile esauste che sono conferibili, cioè si possono andare a buttare presso 20 diversi esercizi commerciali, in genere sono centri commerciali, tabacchieri, tabbeccherie o altro, presenti sul territorio comunale e il cui elenco è consultabile sul sito del Comune. Quello con un flusso abbastanza importante. Abbastanza frequente. Queste invece, altro tipo di raccoglitori, un po' più importanti, più grandi, più diversificati, sono altri sette e saranno posizionati negli uffici pubblici o scolastici più importanti. Naturalmente i miei ringraziamenti vanno a chi ha seguito questa cosa e a chi ha permesso che sia realizzato questo progetto, quindi a Carlo Bianco e al Sindaco. Il problema è effettivamente ancora un problema che riguarda molte strade di Nocera che sono comunque infestate da direzioni canine. Quindi speriamo che con l'installazione di questi contenitori, che sono anche distributori di palette e di buste, ci sia una presa di coscienza generale, soprattutto dei cittadini, e che le utilizzino per riporre praticamente le direzioni all'interno, così in modo che la Multiservizi possa svolgere regolarmente il lavoro di raccolta. Sì, oggi si aggiungono altri due tasselli, voglio dire, a quello che è già stato fatto come lavoro da questa amministrazione rispetto alla raccolta rifiuti. Si aggiungono i contenitori per la raccolta schemen di cani e oltre a questi vanno aggiungi altri contenitori, che sono quelli per le pile esauste, per i telefonini e per piccoli elettrodomestici. Ringrazio l'assessore che neppure conoscevo, ho avuto il piacere di conoscere in questo preciso istante, per le belle parole spese sul mio conto, e voglio fargli gli auguri affinché in collaborazione ed entrambi possiamo rendere questo servizio sempre più efficiente per la città e per i cittadini di Nucera.